Grazie a voi. ...della Masterclass Connect. ...di questo sono orgoglioso, ma non era altezzosa come cosa. Ci tengo molto alle mie origini, da dove vengo, vengo dalla provincia di Napoli, da questa terra e la amo. ...in maniera differente. Nella conversazione che avete avuto avete parlato anche della rapidità della comunità.